La quarta generazione è in gran parte ancora sulla carta, si tratta di sei tecnologie diverse, tre sono basate sul plutonio, sono cosiddette tecnologie, neutroni veloci, autofertilizzanti, un prototipo è stato piccolino, da 20 megawatt elettrici, è stato inaugurato in Cina e direi questo, che di queste linee di sviluppo e di ricerca quella che è più avanti è quella che è legata agli sviluppi della tecnologia che già fu provata nel Super Fenix francese, che è un reattore a plutonio, a neutroni veloci, che fu costruito negli anni Ottanta e compartecipato dall'Enel, noi italiani abbiamo versato per quell'impianto circa 5 mila miliardi di vecchie lire, il costo totale di quell'impianto, incluso lo smantellamento, supera i 10 miliardi di euro, credo che sia stato il disastro finanziario legato all'impianto industriale più importante della storia. Il Super Fenix fu chiuso nel 1994, l'obiettivo era quello, è un po' la chimera nucleare, l'obiettivo di questa tecnologia è quello di trasmutare l'uranio naturale, che è la gran parte dell'uranio che esiste in natura, che noi l'uranio combustibile è il 7 per mille di quello che esiste in natura. Tutto il resto è un uranio che si può, appunto, le tecnologie del plutonio autofertilizzanti sono tecnologie che fertilizzare vuol dire trasformare quest'uranio da prodotto fertile, quindi che può trasmutare, a un prodotto fissio che si può spaccare, il cui nucleo si può spaccare. E quindi c'era l'idea di produrre più plutonio di quello che si bruciava. E se uno guarda il dibattito francese dell'epoca, vede che l'interesse militare era permanente, questo perché il plutonio, ripeto, è un elemento strategico per le bombe, ma l'impianto non riuscì, diciamo che gli esuati non erano quelli attesi e soprattutto è un impianto che è stato tempestato da incidenti perché il nucleo di questa tecnologia è così, diciamo, produce tanto calore che l'acqua non basta perché la capacità termica dell'acqua non è sufficiente per estrarre il calore, quindi si utilizza il sodio liquido che è un elemento estremamente reattivo sia con l'acqua che con l'aria e quindi c'erano continui incendi agli scambiatori di sodio e d'acqua che hanno poi portato la Francia a stabilire il fallimento di questo progetto. È un reattore da 1200 megawatt, franco tedesco italiano, quello che è stato adesso aperto in Cina era di 20, quindi è un reattore di sperimentare un prodotto industriale. Io penso che la quarta generazione, si vedrà se uscirà qualcosa, ma che risolve i problemi eliminando il problema della proliferazione militare, eliminando i rischi di incidenti grave ed eliminando la produzione di scorie, a me sembra che siano appunto studi sulla carta, di fatto tutta la tecnologia nucleare che noi conosciamo, compresa quella di terza generazione, è figlia, ha la stessa fisica del reattore che avevano i reattori che a fine anni 40 sono stati messi nei sottomarini nucleari. Greenpeace ha elaborato assieme al Consiglio europeo delle fonti rinnovabili, che è una specie di confindustria delle fonti rinnovabili, dal 2005 abbiamo sviluppato degli scenari energetici sia a scala globale che a scala macro-regionale, quindi Europa, Asia, Americhe, che nazionale, Italia inclusa, per vedere quale potrebbe essere la possibilità di fare a meno del nucleare e del carbone progressivamente per ridurre le emissioni di CO2, quali sono i costi, le possibilità tecniche e i potenziali energetici. È una classe di scenari che va sotto il nome di Energy Revolution, che dimostrano come questa possibilità esiste, è una possibilità che relativamente agli scenari di riferimento dell'Agenzia dell'Ox di Parigi presenta costi iniziali più elevati. Questi costi iniziali più elevati, per quanto riguarda la parte elettrica, sono quasi il doppio, però hanno due benefici fondamentali. Il primo beneficio è che l'occupazione indotta è oltre il doppio e l'altro beneficio è che consumando progressivamente meno combustibili fossili o uranio e non costruendo queste centrali che sono previste, i risparmi nel corso degli anni ripagano il costo e quindi nel medio termine c'è un guadagno. Quindi si tratta di una scelta politica fondamentale, se si vuole risolvere il problema climatico senza ricorre al nucleare, questo è possibile? Sì, è possibile. Costa di più, occupa di più, costa di più inizialmente, occupa di più. Dopodiché ci hanno fatto un'obiezione legata per quanto riguarda la parte elettrica, che è soltanto tra un quarto e un terzo del totale dei consumi energetici, come la rete elettrica può reggere quantità di fonti intermittenti così ampie. Noi abbiamo poi successivamente fatto un'analisi sulla rete europea, a livello europeo, dove si dimostra che la modifica e l'integrazione delle reti elettriche europee può far sì che nel caso di situazioni meteo estreme, dove c'è poco vento da una parte o poco sole dall'altra, la maggiore integrazione della rete elettrica europea può consentire di trasportare l'elettricità dove serve, quindi togliere, eliminare ai livelli attuali il rischio di blackout. Questo non ha costi particolarmente diversi da quelli che già sosteniamo per la manutenzione della rete elettrica ed è interessante perché, diciamo così, mostra una strada anche che oggi è, per così dire, più realistica dopo che la Germania ha deciso di uscire dal nucleare e di investire molte risorse nelle fonti rinnovabili per sostituire la produzione che faceva prima dal nucleare. Quindi, per così dire, c'è già un pezzo dell'Europa, Germania, Austria e Svizzera che consideriamo in Europa tutti gli effetti dal punto di vista energetico che hanno deciso di muoversi in una direzione che di fatto noi condividiamo e sulla quale abbiamo già fatto studi e analisi che non abbiamo fatti noi come Greenpeace, ma abbiamo affidati all'Istituto di Termodinamica dell'Agenzia Spaziale Tedesca che è la più grande istituzione scientifica di quel paese. Nei nostri scenari noi utilizziamo il gas cosiddetto convenzionale, quindi prevediamo che il gas fino al 2030 ancora abbia un ruolo e poi progressivamente si riduca. Oggi nel mercato sono arrivate una nuova fonte che è il cosiddetto shale gas, cioè gas di scisto, sono risorse non convenzionali che pongono qualche problema ambientale ancora, ma siamo all'inizio della tecnologia, però si può dire che oggi le risorse di gas sono diventate abbondanti come quelle di carbone, quindi il mercato internazionale dell'energia è cambiato completamente e questa emissione di gas non convenzionale ha fatto crollare il prezzo del gas nel mercato americano, per esempio, e rende ancora più assurdo il ricorso al nucleare.